Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi vi porteremo alla scoperta di una delle marche di abbigliamento sportivo più famose al mondo, Adidas. Sveleremo i segreti di come è nata e come è diventata un'icona di stile e innovazione. Preparatevi ad essere affascinati. Per scoprire le radici di Adidas, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Ci troviamo nell'anno 1924, nella cittadina tedesca di Erzogenaura. Questa è la casa di Adolf Dassler, un giovane visionario con una passione per le scarpe da ginnastica. Decise di creare una scarpa che offrisse prestazioni superiori agli atleti dell'epoca. Così nacque Dassler Brothers Sheep Factory, che in seguito sarebbe diventata Adidas. Ma cosa rende Adidas così riconoscibile? Indovinate un po', le tre strisce. Nel 1949, Adolf Dassler introdusse le tre strisce parallele che oggi sono diventate un simbolo di stile e prestigio. Le tre strisce rappresentano anche i tre valori fondamentali di Adidas, performance, design e originalità. Da allora, sono diventate un'icona nel mondo dello sport e della moda. Adidas non è solo una marca di abbigliamento, ma un motore di innovazione. Negli anni 60, Adidas ha rivoluzionato il mondo delle scarpe da ginnastica introducendo le suole con chiodini intercambiabili. Questa innovazione ha permesso agli atleti di personalizzare le scarpe in base alle loro esigenze e ai diversi tipi di terreno su cui si allenavano. Da allora, Adidas continua a spingere avanti i confini della tecnologia e dell'innovazione nel settore dello sport. Oltre all'innovazione, Adidas è famosa anche per le sue collaborazioni di successo con influencer, designer e celebrità del mondo dello sport e dell'intrattenimento. Queste collaborazioni offrono design unici ed esclusivi che attraggono un vasto pubblico. Da Kanye West a Kylie Jenner, Adidas continua a mantenere il suo status di avanguardia nel mondo della moda e della cultura pop. Ma Adidas non si ferma solo allo stile e all'innovazione. L'azienda si impegna anche a livello sociale. Adidas ha avviato diversi programmi per promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale. Ad esempio, attraverso il progetto Adidas Unites, l'azienda supporta organizzazioni che promuovono l'uguaglianza e l'accesso allo sport per tutti. Lo sapevi che, nel 1996, Adidas ha lanciato la sua prima linea di profumi, chiamata Adidas Moves. Nel 2004, Adidas ha acquisito il marchio di abbigliamento sportivo Reebok. Nel 2015, Adidas ha lanciato la sua prima scarpa da corsa realizzata con la tecnologia Boost, che offre un'ammortizzazione superiore e un'energia di ritorno maggiore. Nel 2019, Adidas ha collaborato con l'organizzazione ambientalista Quality for the Oceans per creare una linea di scarpe realizzate con plastica. Riciclata e recuperata dagli oceani Nel 2020, Adidas ha lanciato la sua prima linea di mascherine facciali riutilizzabili in risposta alla pandemia Covid-19. Ecco a voi le cose più importanti di Adidas, un'azienda che ha saputo creare un'identità unica nel mondo dello sport e della moda. Dalle sue radici umili alla sua ascesa globale, Adidas continua a stupirci con il suo stile, innovazione e impegno sociale. Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso la storia di Adidas. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di lasciare un like, commentare e iscrivervi al nostro canale per altri video interessanti. Ci vediamo presto!